Antonello Placanica, Forza Regina Buonasera, intanto complimenti per l'esordio perché è andato benissimo Volevo chiedere una cosa, a parte la gioia della racconta dell'avere contribuito al gol neanche il tempo di esordire con la maglia Maranto, questa è la prima cosa La seconda domanda, io l'anticipo, è ho visto che lei è molto intraprendente nella fase offensiva ha dimostrato, almeno oggi, qualche difficoltà nella fase difensiva ci saremmo aspettati esattamente il contrario ce lo saremmo aspettati perché non la conosciamo oppure è una sua caratteristica che tende più a spingere che a curarsi di quello che succede alle sue spalle Buonasera, innanzitutto grazie in quanto riguarda la partita primis devo ringraziare i compagni, devo ringraziare il mister, la società che mi ha dato l'opportunità di venire in quanto riguarda la vittoria sono molto contento perché è importante il passaggio turno, è importante la fiducia che abbiamo trovato per andare in avanti sono contento che abbiamo segnato per il gol io, però sono contento che l'ha segnato anche Bruno e due argentini che ci stiamo ancora abituando a questa esperienza che almeno per me è nuova, quindi sono molto contento e in quanto riguarda la posizione io sono più offensivo che difensivo quindi devo migliorare sulla fase difensiva e ecco qui la risposta è questa Marco Bezzimenti, Radio Antenna Febbra Buonasera, io le volevo chiedere cosa l'ha convinta a venire qui a Reggio Calabria e come si trova col mister Pergolizzi, grazie Buonasera la mia scelta è stata importante perché cercavo di andare a trovare una squadra in cui mi dava la possibilità di giocare per fortuna io conoscevo un po' il mister l'anno scorso quando stavo a Campobasso e quindi diciamo che anche lui magari mi conosceva un po', ci siamo sentiti prima di venire e lui mi ha dato l'opportunità di giocarmi il posto qua e quindi ho deciso di venire che secondo me è stata una scelta per me importantissima perché sono venuto in una squadra che è in una società, in un club come questo che ogni volta che entri in campo, ogni volta che vai al centro sportivo e ti alleni ti viene dai brividi perché per tutta la storia che c'è al club cerchiamo di portarla sempre in avanti, quindi sono molto contento di questa scelta Va bene così colleghi? Ok, grazie Gianfranco Grazie a voi